Direttori, i costi dell'energia mordono anche nel settore della sanità. Voi avevate già partecipato alla campagna Mi Illumino di meno, facendo un atto di risparmio importante. Adesso come procede? Noi andiamo avanti nelle azioni di risparmio. L'ospedale San Donato aveva già una capacità di produzione di energia pari a circa il 50% del fabbisogno tramite cogeneratori. Quindi per il 50% non prendiamo energia dalla rete ma la produciamo direttamente. Questa percentuale la stiamo aumentando, siamo arrivati al 60% e stiamo investendo su energie rinnovabili. Già l'ospedale San Donato ha un piccolissimo impianto fotovoltaico sopra il soffitto della terapia intensiva. Stiamo progettando un altro impianto fotovoltaico con pannelli sopra la palazzina Servizi per passare da circa 40 kWh a 400 kWh. Ci sono altre iniziative di risparmio che intendete portare avanti? Una di queste è relativa al parco auto. Conversione del parco auto in parco di auto elettriche, contrazione del numero delle autovetture e un'altra azione importante è quella sul personale nell'introdurre stili di vita aziendale più idonei al risparmio energetico. Tenga conto che l'azienda U Toscana Sud-Est passa da una bolletta di 14 milioni di euro all'anno a presunti 30-34 milioni di euro nell'arco del 2022 e tenga conto che l'azienda U Toscana Sud-Est ha un consumo energetico di circa 70 milioni di kWh e 15 milioni di consumo di gas, di metri cubi di gas, che fanno diventare l'azienda non solo energivora fortemente, ma il consumo è paragonabile a quella per esempio di una città qua vicino come Siena.